Salve e ben ritrovati da Alessandro Oranieri in questa nuova edizione del TGD News Marche.it. I titoli principali. Donna uccisa dall'ex marito, l'uomo l'aveva già minacciata di morte e aggredita con un bastone. La figlia difende il padre, era vessato. Il ragazzo di 24 anni tenta di darsi fuoco all'ufficio dell'informa giovani di Ancuna. È stata ritrovata sana e salva, la donna di 51 anni scomparsa a Cagli. I parlamentari del PD contro Spacca, ingeneroso, non ci ha mai cercati. Graziano Palestini aveva già minacciato di morte l'ex moglie Maria Pia Bigoni, uccisa a coltellati in un agguato sotto casa a Civitanova Marche. Al centro delle continue liti, fra i due ex coniugi, la situazione patrimoniale della famiglia. Dopo la separazione, i Bigoni possiedono un peschereccio in attività ittica, nella quale Palestini ha lavorato fino all'età della pensione. Se non mi dai 220 mila euro, ti ammazzo, aveva detto l'anziano all'ex moglie qualche tempo fa, mentre l'8 gennaio scorso l'aveva aggredita con un bastone nel mercato ittico. Adesso colleghiamoci con Chiara Principi, redazione di Radio Connero. Grazie per la linea. Disoccupato e senza casa, il gesto disperato di un 24enne che negli uffici dell'informa giovani ha tentato di darsi fuoco. Gli impiegati però sono riusciti a strappargli di dosso l'accendino. Il ragazzo è così stato trasportato all'ospedale di Torrette. Non è in pericolo di vita, anzi è in buone condizioni. La giunta di Ancona ha riconfermato un nuovo finanziamento della Cari Verona nei confronti della struttura di ospitalità per senza fissa dimora. Un tetto per tutti. Sono stati anche diramati i dati che vedono un aumento degli italiani chiedere accoglienza a questa struttura. Il 26% degli italiani raddoppiati pakistani. La maggior parte degli ospiti che richiede accoglienza a un tetto per tutti proviene da comuni marchigiani. Ed è tutto a te. È stata ritrovata sana e salva, anche se un po' confusa, la donna di 51 anni che era scomparsa a Cagli dopo essere uscita per far passeggiare il cane. A ritrovarla un passante in località La Pradella, lungo un sentiero di uno dei boschi del Monte Paganuccio. Con lei c'era anche il cane e la donna è apparsa spaventata, ma in buona salute. Rimaniamo in provincia di Pesaro. Aveva lanciato nei giorni scorsi la proposta di un contatto diretto con i cittadini per raccogliere in un momento difficile suggerimenti e critiche e rinnovando nel contempo il modo di fare politica. Adesso il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Matteo Ricci, parte con le cene in famiglia. Al debutto Ricci busserà a casa di Carlo Pagnini. Abbiamo accettato con grande piacere il suo invito, dice Ricci. Del resto non potevamo che partire da un cittadino doc come lui. Nelle serate si parlerà un po' di tutto. Abbiamo avuto parecchie richieste, conclude Ricci. Stiamo mettendo a punto il calendario, cercando l'incastro giusto nelle date. Colleghiamento con la redazione di Senigallia. Sentiamo come stanno le cose da Alberto Rivieri. Ancora contatto con la redazione di Senigallia. Ben trovati, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Senigallia hanno tratto in arresto in flagranza di reato due cittadini romeni, 27 e 19 anni. I due si sono resi responsabili di furti aggravati e di svariata merce all'interno del centro commerciale Ipersimpli per un valore complessivo di circa 250 euro. La merce è stata restituita e i due assicurati alla giustizia. Dal 20 al 29 di settembre a Palazzo del Duca, dalle 17.30 alle 19, omaggio a Benito Quadraroli e alla Senigallia dei motori, con una mostra fotografica organizzata dal comune di Senigallia, assessorato alla cultura Musinf e Panathon Club. Fotostoria della settimana motoristica senegalese, immagini di gara, campioni e macchine che furono protagonisti a partire dal 1928 fino al 1956. E' tutto, vi restituisco la linea, radiovelluto.it, il nostro sito. Bene, un ultimo aggiornamento per quanto riguarda la notizia dell'arresto a Fermo di quattro persone a conclusione delle indagini sul tentato omicidio di due tunisini avvenuto il 5 giugno scorso a Lido Trearchi di Fermo, quando due uomini avevano fatto irruzione nell'abitazione dei due nordafricani esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco con l'intento di uccidere. Quindi la conferma da parte dei carabinieri di Fermo dell'arresto di quattro persone. Era l'ultima notizia di questa edizione del Tg di Newsmarket.it. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione. Buona giornata.